Davide Formolo, vigilia di Giro d'Italia, siete motivatissimi, com'è il morale? Siamo molto ottimisti, abbiamo una squadra molto forte alla partenza e cercheremo di dare il massimo. La tua condizione personalmente? È abbastanza buona, ora vedremo nelle prime tappe come reagiranno le gambe dopo i suoi giorni d'altura, perciò guardiamo con molto ottimismo questi giorni che stanno per venire. Ovviamente si fatica, soprattutto per Almeida, puntate davvero forti su questo giro. Sì, ci crediamo molto ovviamente, abbiamo inculcure veramente forti in squadra e speriamo di riuscire a fare qualcosa di veramente importante per loro. Questi giorni il tempo è stato un'incognita, venerdì 12 si tornerà qui in Abruzzo a Campo Imperatore, attualmente c'è molta neve, chissà cosa ci aspetterà? Speriamo una giornata soleggiata con la neve, in parte della strada, speriamo. Ok, grazie. Grazie.